Allora Nemo spiega per l'appunto e cerca di far capire e riesce alla fine a far capire a tutti quei pesci che sono lì che se sbattono ognuno in una direzione diversa non ce la faranno mai ma gli spiega che se tutti spingono con le loro forze nella stessa direzione succede il miracolo e il miracolo è esattamente quello che succede nel film, cioè tutti tirano nella stessa direzione si rompe la rete, la rete li libera e Nemo ritrova il papà Di cose folli ne possiamo fare parecchie ma quella di differenziare ulteriormente l'offerta politica secondo me è un'operazione impraticabile possiamo anche cambiare il nome Giro, giro, tondo, gira il mondo, gira la terra, tutti giù per terra Giro, giro, tondo, in mare e fondo, tonda è la terra, tutti giù per terra Il PDL è impegnato su due fronti a rinnovarsi in una forma più agile e più presente sui territori per ascoltare il messaggio che ci viene dagli italiani